discorso sulla libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni benjamin constant signori mi propongo di sottoporvi alcune distinzioni che sono ancora abbastanza nuove fra due generi di libertà le cui differenze sono rimaste finora inavvertite o sono state almeno troppo poco considerate l'una è la libertà il cui esercizio era così caro ai popoli antichi l'altra è quella il cui godimento è particolarmente prezioso alle nazioni moderne questa ricerca sarà interessante se non vado errato sotto un duplice profilo in primo luogo la confusione tra queste due specie di libertà è stata fra noi in epoche troppo celebri della nostra rivoluzione la causa di molti mali la francia si è vista faticare da inutili esperimenti i cui autori irritati dal loro scarso successo hanno cercato di costringerla a fruire del bene che essa non voleva e le hanno conteso il bene che voleva in secondo luogo chiamati dalla nostra felice rivoluzione la chiamo felice nonostante i suoi accessi perché fisso lo sguardo sui suoi risultati a fruire dei benefici di un governo rappresentativo è curioso e utile cercare perché questo governo il solo a cui riparo possiamo oggi trovare qualche libertà e qualche riposo è stato quasi interamente sconosciuto alle nazioni libere dell'antichità so che si è preteso di trovarne le tracce presso alcuni popoli antichi nella repubblica di sparta e presso i galli i nostri antenati ma a torto il governo di sparta era un'aristocrazia monastica e non già un governo rappresentativo il potere dei re era limitato ma era limitato dagli efori e non da uomini investiti di una missione simile a quella che l'elezione conferisce ai nostri giorni ai difensori delle nostre libertà gli efori senza dubbio dopo essere stati istituiti dai re furono nominati dal popolo ma non erano che cinque e la loro autorità e la loro autorità era sia religiosa che politica partecipavano anche all'amministrazione del governo cioè al potere esecutivo e perciò la loro prerogativa come quella di quasi tutti i magistrati popolari nelle antiche repubbliche lungi dall'essere semplicemente una barriera contro la tirannide ne veniva talvolta essa stessa una insopportabile tirannide il regime dei galli che somigliava notevolmente a quello che un certo partito vorrebbe renderci era al tempo stesso teocratico e guerriero i preti godevano di un potere illimitato la classe militare o la nobiltà possedeva privilegi assai insolenti e oppressivi il popolo era privo di diritti e di garanzie a roma i tribuni avevano fino a un certo punto una missione rappresentativa erano organi di quei plebei che l'oligarchia uguale in tutti i secoli aveva sottomesso rovesciando i re a un duro servaggio il popolo esercitava tuttavia direttamente gran parte dei diritti politici esso si riuniva per votare le leggi per giudicare i patrizi messi sotto accusa non verano dunque a roma che deboli tracce del sistema rappresentativo questo sistema è una scoperta dei moderni e vedrete signori che la condizione della specie umana nell'antichità non permetteva a un'istituzione di questo tipo di introdurvisi o di stabilirvisi i popoli antichi non potevano sentirne la necessità né apprezzarne i vantaggi la loro organizzazione sociale li conduceva a desiderare una libertà completamente diversa da quella che questo sistema ci assicura il discorso di questa sera sarà appunto dedicato a dimostrarvi questa verità chiedetevi innanzitutto signori che cosa intendano oggi con la parola libertà un inglese un francese un abitante degli stati uniti d'america il diritto di ciascuno di non essere sottoposto che alle leggi di non poter essere né arrestato né detenuto né messo a morte né maltrattato in alcun modo a causa dell'arbitrio di uno o più individui il diritto di ciascuno di dire la sua opinione di scegliere la sua industria di esercitarla di disporre della sua proprietà e anche di abusarne di andare, di venire senza doverne ottenere il permesso e senza render conto delle proprie intenzioni e della propria condotta il diritto di ciascuno di riunirsi con altri individui sia per conferire sui propri interessi sia per professare il culto che egli o i suoi associati preferiscono sia semplicemente per occupare le sue giornate, le sue ore nel modo più conforme alle sue inclinazioni, alle sue fantasie il diritto infine di ciascuno di influire sull'amministrazione del governo sia nominando tutti o alcuni dei funzionari sia mediante rimostranze, petizioni, richieste che l'autorità sia più o meno obbligata a prendere in considerazione paragonate ora a questa libertà quella degli antichi essa consisteva nell'esercitare collettivamente ma direttamente molte funzioni dell'intera sovranità nel deliberare sulla piazza pubblica sulla guerra e sulla pace nel concludere con gli stranieri i trattati di alleanza nel votare le leggi, nel pronunciare i giudizi nell'esaminare i conti, la gestione dei magistrati nel farli comparire dinnanzi a tutto il popolo nel metterli sotto accusa, nel condannarli o assolverli ma se questo era ciò che gli antichi chiamavano libertà e se ritenevano compatibile con questa libertà collettiva l'assoggettamento completo dell'individuo all'autorità dell'insieme non trovate presso di loro alcuno dei godimenti che abbiamo visto far parte della libertà dei moderni tutte le azioni private sono sottoposte a una sorveglianza severa nulla è accordato all'indipendenza individuale né sotto il profilo delle opinioni né sotto quello dell'industria né soprattutto sotto il profilo della religione la facoltà di scegliere il proprio culto facoltà che noi consideriamo come uno dei nostri più preziosi diritti sarebbe sembrata agli antichi un crimine e un sacrilegio nelle cose che a noi sembrano più utili l'autorità del corpo sociale si interpone e impaccia la volontà degli individui Terpandro non può a Sparta aggiungere una corda alla sua lira senza che gli efori si sdegnino l'autorità si intromette anche nelle relazioni più intime il giovane spartano non può visitare liberamente la sua sposa a Roma i censori penetrano con occhio scrutatore all'interno delle famiglie le leggi regolano i costumi e poiché i costumi concernono tutto non ve nulla che le leggi non regolino così presso gli antichi l'individuo sovrano quasi abitualmente negli affari pubblici è schiavo in tutti i suoi rapporti privati come cittadino egli decide della pace e della guerra come privato è limitato, osservato, represso in tutti i suoi movimenti come parte del corpo collettivo interroga, destituisce, condanna, spoglia, esilia manda a morte i suoi magistrati o i suoi superiori come sottoposto al corpo collettivo può a sua volta essere privato della sua condizione spogliato delle sue dignità bandito, messo a morte dalla volontà discrezionale dell'insieme di cui fa parte presso i moderni al contrario l'individuo indipendente nella sua vita privata persino negli stati più liberi non è sovrano che in apparenza la sua sovranità è limitata quasi sempre sospesa e se a epoche fisse e marare nelle quali è pur sempre circondato da precauzioni e ostacoli esercita questa sovranità non lo fa che per abdicarvi debbo qui, signori, fermarmi un istante per prevenire una obiezione che mi si potrebbe fare v'è nell'antichità una repubblica in cui l'asservimento dell'esistenza individuale al corpo collettivo non è così completo come ho appena descritto questa repubblica è la più celebre di tutte voi indovinate che voglio parlare di Atene su ciò ritornerò in seguito e, concordando sulla verità del fatto ve ne esporrò la causa vedremo perché fra tutti gli stati antichi Atene è quello che più somigliò agli stati moderni in ogni altra parte la giurisdizione sociale era illimitata gli antichi come dice Condorcet non avevano alcuna nozione dei diritti individuali gli uomini non erano per così dire che delle macchine di cui la legge regolava le molle e dirigeva i congegni lo stesso asservimento caratterizzava i bei secoli della Repubblica Romana l'individuo si era in qualche modo perduto nella nazione il cittadino nella città risaliamo adesso all'origine di questa differenza essenziale tra gli antichi e noi tutte le repubbliche antiche erano rinchiuse entro ristretti confini la più popolosa la più potente la più considerevole di esse non eguagliava in estensione il più piccolo stato moderno per una inevitabile conseguenza della loro piccola estensione lo spirito di queste repubbliche era bellicoso ogni popolo urtava continuamente i suoi vicini o da essi era urtato spinti così dalla necessità gli uni contro gli altri essi si combattevano o si minacciavano continuamente coloro che non volevano essere conquistatori non potevano deporre le armi se non a rischio di essere conquistati tutti comperavano la loro sicurezza e la loro indipendenza la loro intera esistenza a prezzo della guerra questa costituiva l'interesse costante e l'occupazione quasi abituale degli stati liberi dell'antichità infine e per una conseguenza parimenti necessaria di questo modo di essere tutti questi stati avevano degli schiavi le professioni meccaniche e presso talune nazioni persino le professioni industriali erano affidate a braccia incatenate il mondo moderno ci offre uno spettacolo completamente opposto i più piccoli stati della nostra epoca sono incomparabilmente più vasti di quel che fu Sparta o Roma durante cinque secoli la stessa divisione dell'Europa in numerosi stati è grazie al progresso della civiltà più apparente che reale mentre prima ogni popolo formava una famiglia isolata nemica nata delle altre famiglie ora una massa di uomini vive sotto nomi differenti e in differenti modi di organizzazione sociale che però per sua natura omogenea è abbastanza forte per non avere nulla da temere dalle orde barbare e abbastanza illuminata perché la guerra le sia di peso la sua uniforme tendenza è verso la pace questa differenza ne comporta un'altra la guerra la guerra è anteriore al commercio perché la guerra e il commercio non sono che due mezzi differenti per raggiungere lo stesso fine quello di possedere ciò che si desidera il commercio non è che un omaggio reso alla forza del possessore da colui che aspira al possesso è un tentativo per ottenere pacificamente ciò che non si spera più di conquistare con la violenza un uomo che fosse sempre il più forte non avrebbe mai l'idea del commercio è l'esperienza che provandogli che la guerra cioè l'impiego della sua forza contro la forza altrui lo espone a varie resistenze e a vari insuccessi lo induce a ricorrere al commercio cioè un mezzo più dolce e più sicuro per impegnare l'interesse di un altro ad acconsentire a ciò che conviene al suo interesse la guerra è l'impulso il commercio e il calcolo ma perciò stesso deve venire un'epoca in cui il commercio sostituisca la guerra noi siamo arrivati a questa epoca non voglio affatto dire che non vi siano stati presso gli antichi popoli commercianti ma questi popoli facevano in qualche modo eccezione alla regola generale i limiti di un discorso non mi permettono di indicarvi tutti gli ostacoli che si opponevano allora ai progressi del commercio d'altronde voi li conoscete bene quanto me ne ricorderò uno solo l'ignoranza della bussola obbligava i marinai antichi a non perdere di vista le coste per quanto era loro possibile attraversare le colonne d'Ercole varcare cioè lo stretto di Gibilterra era considerata la più audacia impresa fenici e cartaginesi i più abili navigatori osarono farlo solo molto tardi e il loro esempio restò a lungo senza imitatori ad Atene di cui parleremo tra poco l'interesse marittimo era di circa il 60% mentre l'interesse ordinario era del 12% tanto l'idea di una navigazione lontana implicava quella del pericolo inoltre se potessi compiere una digressione che purtroppo sarebbe troppo lunga vi mostrerai i signori attraverso i dettagli dei costumi delle abitudini del modo di trafficare dei popoli commercianti dell'antichità con gli altri popoli che lo stesso commercio era per così dire impregnato dello spirito dell'epoca dell'atmosfera di guerra e di ostilità che li circondava il commercio era allora un felice accidente oggi invece è la condizione normale il fine unico la tendenza universale la vera via delle nazioni queste vogliono la pace con la pace il benessere e l'industria in quanto è fonte di benessere la guerra è ogni giorno di più un mezzo meno efficace per soddisfare i loro desideri le sue occasioni non offrono più né agli individui né alle nazioni benefici che ugualino i risultati del lavoro pacifico e degli scambi regolari presso gli antichi una guerra fortunata cresceva la ricchezza pubblica e privata di schiavi tributi e terre presso i moderni una guerra fortunata costa infallibilmente più di quanto non renda infine grazie al commercio alla religione ai progressi intellettuali e morali della specie umana non vi sono più schiavi presso le nazioni europee sono agli uomini liberi che debbono esercitare tutte le professioni provvedere a tutti i bisogni della società è facile immaginare signori quale sia il risultato necessario di queste differenze in primo luogo l'estensione di un paese diminuisce proporzionalmente l'importanza politica che spetta a ciascun individuo il più oscuro repubblicano di Roma o di Sparta era una potenza non è la stessa cosa per il semplice cittadino della Gran Bretagna o degli Stati Uniti la sua personale influenza è un elemento impercettibile della volontà sociale che imprime la sua direzione al governo in secondo luogo l'abolizione della schiavitù ha tolto alla popolazione tutto il tempo che le derivava dal fatto che agli schiavi era affidata alla maggior parte dei lavori senza gli schiavi di Atene 20.000 Ateniesi non avrebbero potuto deliberare ogni giorno sulla piazza pubblica in terzo luogo il commercio non consente come la guerra intervalli di attività nella vita dell'uomo il continuo esercizio dei diritti politici la quotidiana discussione degli affari di Stato le diatribe i conciliaboli tutto il seguito al movimento delle fazioni agitazioni necessarie riempitivo obbligato se posso impiegare questo termine nella vita dei popoli liberi dell'antichità che senza questa risorsa avrebbero languito sotto il peso di una dolorosa inerzia offrirebbe soltanto disordine e fatica alle nazioni moderne nelle quali ogni individuo occupato nelle speculazioni nelle imprese nei godimenti ottenuti o sperati non vuole essere distolto che momentaneamente è il meno possibile infine il commercio ispira agli uomini un vivo amore per la indipendenza individuale il commercio provvede ai loro bisogni e soddisfa i loro desideri senza intervento dell'autorità tale intervento è quasi sempre e non so perché dica quasi è sempre un disturbo e un impedimento tutte le volte che il potere collettivo vuole immischiarsi nelle speculazioni private esso vessa gli speculatori tutte le volte che i governi pretendono di fare i nostri affari li fanno peggio e con maggiore dispendio di noi vi ho detto signori e vi avrai riparlato di Atene il cui esempio potrebbe essere opposto ad alcune delle mie asserzioni e che invece le confermerà tutte Atene come ho già riconosciuto fu di tutte le repubbliche greche quella maggiormente dedita al commercio perciò accordava ai suoi cittadini una libertà individuale infinitamente più grande di Roma e Sparta se potessi entrare nei dettagli storici vi mostrerei che il commercio aveva fatto scomparire da Atene molte delle differenze che distinguono i popoli antichi dai popoli moderni lo spirito dei commercianti di Atene era simile a quello dei commercianti di oggi Senofonte ci informa che durante la guerra del Penoponneso essi trasferivano i loro capitali dal continente dell'Attica alle isole dell'arcipelago il commercio aveva dato vita presso di loro alla circolazione notiamo in Isocrate tracce dell'uso delle lettere di cambio osservate anche quanto i loro costumi somigliano ai nostri nei loro rapporti con le donne vedrete cito ancora Senofonte che gli sposi sono soddisfatti quando la pace e una decorosa amicizia regnano all'interno della casa sono indulgenti verso la sposa troppo fragile che cede alla tirannia della natura chiudono gli occhi sull'irresistibile potere delle passioni perdonano la prima debolezza e dimenticano la seconda nei loro rapporti con gli stranieri li vedrete prodigare i diritti di cittadinanza a chiunque trasferendosi tra loro con la famiglia intraprenda un mestiere o impianti una fabbrica sarete infine colpiti dal loro estremo amore per l'indipendenza individuale a Sparta dice un filosofo i cittadini accorrono quando il magistrato li chiama ma un atenese si ridurrebbe alla disperazione se credesse di dipendere da un magistrato poiché tuttavia molte delle altre circostanze che decidevano del carattere delle nazioni antiche esistevano anche ad Atene e poiché vi era una popolazione di schiavi e il territorio era assai piccolo vi troviamo vestigia delle libertà proprie degli antichi il popolo fa le leggi esamina la condotta dei magistrati chiama pericle alla resa dei conti condanna a morte i generali che avevano diretto la battaglia delle arginuse in pari tempo lo stracismo questo arbitrio legale vantato da tutti i legislatori dell'epoca che a noi sembra e deve sembrare una rivoltante iniquità prova che l'individuo era ancora più asservito alla supremazia del corpo sociale ad Atene di quanto non lo sia oggi in qualsiasi stato libero d'Europa da quel che ho finora esposto risulta che noi non possiamo più godere della libertà degli antichi che si fondava sulla partecipazione attiva e costante al potere collettivo la nostra libertà deve fondarsi sul pacifico godimento dell'indipendenza privata la parte che nell'antichità ciascuno aveva nella sovranità nazionale non era affatto come lo è oggi una stratta supposizione la volontà di ciascuno aveva una influenza reale l'esorcizio di questa volontà era un piacere vivo e ripetuto di conseguenza gli antichi erano disposti a fare molti sacrifici per conservare i loro diritti politici e la loro partecipazione all'amministrazione dello stato ciascuno sentiva con orgoglio tutto quel che valeva il suo suffragio e trovava in questa coscienza della sua personale importanza un ampio compenso questo compenso non esiste più oggi per noi perduto nella moltitudine l'individuo non avverte quasi mai l'influenza che esercita ma la sua volontà si imprime sull'insieme niente prova ai suoi occhi la sua cooperazione l'esercizio dei diritti politici ci offre dunque ormai soltanto una parte dei godimenti che vi trovavano gli antichi e in pari tempo i progressi della civiltà la tendenza commerciale dell'epoca la comunicazione dei popoli fra loro hanno moltiplicato e variato all'infinito i mezzi della felicità privata e segue che dobbiamo essere attaccati assai più degli antichi alla nostra indipendenza individuale perché gli antichi quando sacrificavano questa indipendenza ai diritti politici sacrificavano il meno per ottenere il più mentre facendo lo stesso sacrificio noi daremmo il più per ottenere il meno il fine degli antichi era la divisione del potere sociale fra tutti i cittadini di una stessa patria era questo che si chiamavano libertà il fine dei moderni è la sicurezza dei godimenti privati ed essi chiamano libertà le garanzie accordate dalle istituzioni a questi godimenti ho detto all'inizio che non avendo colto queste differenze uomini d'altronde bene intenzionati causarono infiniti mali durante la nostra lunga e tempestosa rivoluzione dio non voglia che rivolga loro rimproveri troppo severi il loro errore era scusabile non si possono leggere le belle pagine dell'antichità non si possono rievocare le azioni dei suoi grandi uomini senza provare non so quale emozione particolare che niente di ciò che è moderno fa provare gli antichi elementi di una natura anteriore per così dire alla nostra sembrano svegliarsi in noi a questi ricordi è difficile non rimpiangere quei tempi in cui le facoltà dell'uomo si sviluppavano in una direzione predeterminata ma con un orizzonte vastissimo con grande sicurezza nelle proprie forze e con grande sentimento di energia e dignità e quando ci si abbandona a questi rimpianti è impossibile non voler imitare quel che si rimpiange questa impressione era profonda soprattutto quando vivevamo sotto governi usurpatori che senza essere forti erano vessatori assurdi nei loro principi miserabili nell'azione governi che avevano per movente l'arbitrio per fine l'abbruttimento del genere umano e che certuni osano vantare ancora oggi come se potessimo dimenticare mai di essere stati testimoni e vittime della loro ostinazione della loro impotenza e della loro rovina il fine dei nostri riformatori fu nobile e generoso chi di noi non ha sentito il cuore battere di speranza all'imbocco della strada che sembravano aprire e guai anche oggi a chi non prova il bisogno di dichiarare che il riconoscimento di alcuni errori commessi dai nostri primi maestri non significa disonorare la loro memoria né sconfessare opinioni che gli amici dell'umanità hanno professato in tutti i tempi ma questi uomini avevano attinto molte delle loro teorie alle opere di due filosofi che non ignoravano le modificazioni apportate da duemila anni alle attitudini del genere umano forse un giorno esaminerò il sistema del più illustre di questi filosofi di Jean-Jacques Rousseau e mostrerò che trasferendo nei nostri tempi moderni un'ampiezza del potere sociale della sovranità collettiva che appartenevano ad altri secoli questo genio sublime animato dal più pur amore per la libertà ha tuttavia fornito pretesti funesti a più di un tipo di tirannia senza dubbio mettendo in rilievo quel che considero come un equivoco che è importante chiarire sarò cauto nella mia confutazione e rispettoso nel biasimo eviterò certamente di unirmi ai detrattori di un grande uomo quando il caso vuole che io mi incontri con loro anche su un solo punto diffido di me stesso e per consolarmi di sembrare per un istante del loro stesso parere su un'unica e parziale questione ho bisogno di sconfessare e umiliare per quanto mi è possibile questi miei pretesi alleati tuttavia l'interesse della verità deve prevalere su considerazioni che rendono tanto potenti lo splendore di un talento prodigioso e l'autorità di una fama immensa d'altronde non è affatto a Rousseau come si vedrà che si deve principalmente attribuire l'errore che combatto esso va attribuito molto di più a uno dei suoi successori meno eloquente ma non meno austero e mille volte esagerato quest'ultimo l'abate Mabli può essere considerato come il rappresentante del sistema che conformemente alle massime della libertà antica vuole che i cittadini siano completamente assoggettati perché la nazione sia sovrana e che l'individuo sia schiavo perché il popolo sia libero l'abate Mabli come Rousseau e come molti altri sulla scia degli antichi avevano scambiato l'autorità del corpo sociale per la libertà e tutti i mezzi gli sembravano buoni per estendere l'azione di questa autorità su quella parte recalcitrante dell'esistenza umana di cui egli deplorava l'indipendenza il rimpianto che egli esprime dappertutto nelle sue opere è che la legge non possa raggiungere che le azioni egli avrebbe voluto che essa raggiungesse i pensieri le impressioni più fugaci e perseguisse l'uomo senza posa e senza lasciargli asilo dove potersi sottrarre al suo potere appena scorgeva presso un qualsiasi popolo una misura vessatoria credeva di aver fatto una scoperta e lo proponeva per modello egli odiava la libertà individuale come si odia un nemico personale e quando incontrava nella storia una nazione che ne era completamente priva non poteva trattenersi dall'ammirarla si estasiava davanti agli egiziani perché diceva tutto presso di loro era regolato dalla legge perfino i piaceri e i bisogni tutto si piegava sotto l'impero del legislatore ogni attimo della giornata era occupato da qualche dovere perfino l'amore era soggetto a questo intervento spietato ed era la legge che di volta in volta apriva o chiudeva l'alcova nuziale Sparta che nel medesimo asservimento degli individui univa forme repubblicane eccitava nello spirito di quel filosofo un entusiasmo ancora più vivo questo vasto convento gli sembrava l'ideale di una perfetta repubblica per Atene aveva un profondo disprezzo e avrebbe detto volentieri di questa nazione che fu in Grecia la prima quel che un accademico gran signore diceva dell'accademia francese che spaventoso dispotismo tutti vi fanno quel che vogliono devo aggiungere che questo gran signore parlava dell'accademia come era trent'anni fa Montesquieu dotato di uno spirito più osservatore perché aveva una testa meno focosa non è caduto affatto negli stessi errori egli è stato colpito dalle differenze che ho riferito ma non ne ha individuata la vera causa i politici greci che vivevano sotto il governo popolare non riconoscevano diceva altra forza che quella della virtù quelli di oggi non parlano che di manifatture di commercio di finanze di ricchezza e perfino di lusso egli attribuisce questa differenza alla repubblica e alla monarchia bisogna attribuirla invece allo spirito opposto dei tempi antichi e dei tempi moderni tanto i cittadini delle repubbliche quanto i sudditi delle monarchie vogliono tutti godere e nessuno può non volerlo allo stato attuale della società nella nostra epoca il popolo più attaccato alla sua libertà prima della liberazione della Francia era anche il popolo più attaccato a tutti i godimenti della vita e teneva la sua libertà soprattutto perché vi vedeva la garanzia dei godimenti che amava in passato là dove c'era libertà si potevano supporre le privazioni ora dovunque ci sono privazioni è necessaria la schiavitù per assegnarvisi oggi sarebbe più facile fare un popolo di schiavi un popolo di spartani che formare degli spartani per la libertà i uomini che si trovarono sospinti dall'onda degli avvenimenti alla testa della nostra rivoluzione erano per necessaria conseguenza dell'educazione che avevano ricevuta imbevuti di opinioni antiche e ormai false rimesse in onore dai filosofi di cui ho parlato la metafisica di Rousseau nella quale lampeggiavano ad un tratto sublimi verità e passaggi di un'elequenza trascinatrice l'austerità di Mabli la sua intolleranza il suo odio contro tutte le passioni umane la sua brama di asservirle tutte i suoi esagerati principi sulla competenza delle leggi la differenza tra ciò che egli raccomandava e ciò che esisteva le sue declamazioni contro le ricchezze e perfino contro la proprietà tutto ciò doveva affascinare uomini infiammati da una vittoria recente che conquistando un potere legale erano ben disposti ad estenderlo su tutto per loro era un'autorità preziosa quella di due scrittori che disinteressati nella questione avevano pronunciato l'anatema contro il dispotismo degli uomini redigendo in assiomi il testo della legge puoi loro dunque esercitare la loro forza pubblica come avevano imparato dai loro maestri che era stata un tempo esercitata negli stati liberi credettero che tutto dovesse di nuovo cedere davanti alla volontà collettiva e che tutte le restrizioni ai diritti individuali sarebbero ampiamente compensate dalla partecipazione al potere sociale voi sapete signori qual è stato il risultato istituzioni libere fondate sulla conoscenza dello spirito del secolo avrebbero potuto sussistere l'edificio rinnovato degli antichi è crollato nonostante molti sforzi e molti atti eroici che hanno diritto all'ammirazione il fatto è che il potere sociale feriva in tutti i sensi l'indipendenza individuale senza distruggerne il bisogno la nazione non trovava affatto che una parte ideale di una sovranità astratta valesse i sacrifici che le si ordinavano in vano e si ripeteva con rousseau le leggi della libertà sono mille volte più austere di quanto non lo sia il duro gioco dei tiranni essa non valeva queste leggi austere e nella sua stanchezza credeva talvolta che il gioco dei tiranni sarebbe stato preferibile è venuta l'esperienza e la disingannata essa ha visto che l'arbitrio degli uomini era peggiore delle peggiori leggi ma anche le leggi debbono avere i loro limiti se sono giunto signori a farvi condividere la convinzione che secondo me questi fatti debbono produrre riconoscerete con me la verità dei principi che seguono l'indipendenza individuale è il primo bisogno dei moderni di conseguenza non se ne deve mai chiedere loro il sacrificio per stabilire la libertà politica ne segue che nessuna delle istituzioni numerose e troppo vantate che nelle repubbliche antiche limitavano la libertà individuale è ammissibile nei tempi moderni sembra a tutta prima superfluo signori stabilire questa verità molti governi dei nostri giorni non sembrano affatto inclini a imitare le repubbliche dell'antichità tuttavia se hanno poca inclinazione per le istituzioni repubblicane hanno non so quale attaccamento per alcune usanze repubblicane è depolorevole che siano proprio quelle che permettono il bando l'esilio e la conquista mi ricordo che nel 1802 in una legge sui tribunali speciali venne inserito un articolo che introduceva in Francia lo stracismo greco ed io sa quanti oratori eloquenti ci parlarono per far approvare questo articolo che fu tuttavia ritirato della libertà di Atene e di tutti i sacrifici che gli individui dovevano fare per conservare la libertà del pari in epoca più recente quando autorità paurose tentarono con mano titubante di dirigere le elezioni a loro piacimento un giornale che pure non è affatto contaminato di repubblicanismo propose di far rivivere la censura romana per allontanare i candidati pericolosi certo dunque di non impegnarmi in una digressione inutile se per sostenere la mia asserzione dirò qualche parola su queste due tanto celebrate istituzioni lo stracismo di Atene si fondava sull'ipotesi che la società ha piena autorità sui suoi membri in questa ipotesi esso si poteva giustificare in uno stato piccolo dove l'influenza di un individuo forte del suo credito della sua clientela della sua gloria eguagliava spesso la potenza della massa lo stracismo poteva avere una parvenza di utilità ma tra noi gli individui hanno diritti che la società deve rispettare e l'influenza individuale come ho già osservato è talmente perduta in una moltitudine di influenze uguali o superiori che ogni vessazione motivata con la necessità di diminuire tale influenza è inutile e quindi giusta nessuno ha il diritto di esiliare un cittadino che non è condannato legalmente da un tribunale regolare in base a una legge formale che infligge la pena dell'esilio per l'azione di cui è colpevole nessuno ha il diritto di strappare il cittadino alla sua patria il proprietario ai suoi beni il negoziante al suo commercio lo sposo alla sposa il padre ai figli lo scrittore alle sue meditazioni il vecchio alle sue abitudini ogni esilio politico è un attentato politico ogni esilio pronunziato da un'assemblea per pretesi motivi di salute pubblica è un crimine di tale assemblea contro la salute pubblica la quale riposa sempre sul rispetto delle leggi sulla osservanza delle forme e sul mantenimento delle garanzie la censura romana supponeva come l'ostracismo un potere discrezionale in una repubblica in cui tutti i cittadini allevati dalla povertà in una estrema semplicità di costumi abitavano nella stessa città e non esercitavano altra professione che distraesse la loro attenzione dagli affari di stato trovandosi così costantemente spettatori e giudici dell'uso del potere pubblico la censura poteva avere da una parte maggiore influenza e da un'altra l'arbitrio dei censori era contenuto da una sorta di vigilanza morale esercitata su di loro ma quando l'estensione della repubblica la contemplazione delle relazioni sociali e l'affinamento della civiltà tolsero a questa istituzione quel che le serviva da base e da limite la censura decenerò persino a Roma non era dunque la censura che aveva creato i buoni costumi era la semplicità dei costumi che costituiva la potenza e l'efficacia della censura in Francia una istituzione arbitraria come la censura sarebbe al tempo stesso inefficace e intollerabile nello stato presente della società i costumi si compongono di sfumature sottili ondeggianti impercettibili che si snaturerebbero in mille modi se si tentasse di dar loro maggiore precisione soltanto l'opinione può percepirle essa soltanto può giudicarle perché ha la medesima natura mentre si solleverebbe contro ogni autorità positiva che volesse conferirle maggior precisione se il governo di un popolo moderno volesse come i censori di Roma colpire un cittadino con una decisione discrezionale la nazione intera protesterebbe e non ratificherebbe le decisioni dell'autorità quel che ho detto a proposito del trapianto della censura nei tempi moderni si applica a molti altri aspetti dell'organizzazione sociale in ordine ai quali l'antichità si viene citata ancor più frequentemente e con ancor maggiore enfasi così è per l'educazione ad esempio che cosa ci viene detto circa la necessità di permettere che il governo si impadronisca delle nuove generazioni per modellarle a suo piacimento e con quali citazioni erudite non viene sostenuta questa teoria i persiani gli egiziani e la gallia e la grecia e l'italia ci vengono di volta in volta ricordate oh signori noi non siamo né persiani sottomessi a un despota né egiziani soggiogati dai preti né galli che potevano essere sacrificati dai loro druidi né infine i greci o romani che potevano consolarsi del loro asservimento privato per la partecipazione all'autorità sociale siamo dei moderni che vogliamo godere ciascuno dei propri diritti sviluppare ciascuno le proprie facoltà come meglio ci sembra senza nuocere agli altri vegliare sullo sviluppo di queste facoltà nei fanciulli che la natura affida al nostro affetto tanto più illuminato quanto più è vivo non abbiamo bisogno dell'autorità se non per ottenere gli strumenti generali di istruzione che può fornire come i viaggiatori accettano da essa le grandi strade senza farsi dirigere nel cammino da seguire anche la religione è esposta a questi ricordi dei secoli passati intrepidi difensori dell'unità di dottrina ci citano le leggi degli antichi contro i dei stranieri e sostengono i diritti della chiesa cattolica con l'esempio degli ateniesi che fecero penire Socrate perché aveva attaccato il politeismo e con quello di Augusto che voleva che si restasse fedeli al culto dei padri la qualcosa fece sì che qualche tempo dopo si sdettassero alle belve i primi cristiani diffidiamo dunque ai signori di questa ammirazione per certe reminiscenze antiche già che viviamo nei tempi moderni voglio la libertà che conviene ai tempi moderni e già che siamo retti da monarchie supplico umilmente queste monarchie di non mutuare dalle antiche repubbliche mezzi di oppressione la libertà individuale lo ripeto ecco la vera libertà moderna la libertà politica ne è la garanzia la libertà politica è quindi indispensabile ma chiedere ai popoli dei nostri giorni di sacrificare come quelli di altra epoca la totalità della loro libertà individuale alla libertà politica è il mezzo più sicuro per distaccarli dall'una e quando vi si sarà riusciti non si tarderà a strapar loro l'altra vedete signori che le mie osservazioni non tendono affatto a sminuire il valore della libertà politica dai fatti che vi ho sottoposti non trago affatto le conseguenze che ne traggono certuni dal fatto che gli antichi sono stati liberati e che noi non possiamo più essere liberi come gli antichi essi concludono che siamo destinati a essere schiavi essi vorrebbero costituire il nuovo stato sociale con un piccolo numero di elementi che ritengono i soli appropriati alla situazione del mondo attuale tali elementi sono i pregiudizi per spaventare gli uomini l'egoismo per corromperli la frivolezza per stordirli i piaceri grossolani per degradarli il dispotismo per guidarli e ce n'è pur bisogno conoscenze positive e scienze esatte per servire meglio il dispotismo sarebbe strano che questo fosse il risultato di 40 secoli durante i quali il genere umano ha conquistato tanti mezzi morali e fisici non posso pensarlo dalle differenze che ci distinguono dagli antichi io traggo conseguenze del tutto opposte non è affatto la garanzia che bisogna indebolire è il godimento che bisogna estendere non voglio affatto rinunciare alla libertà politica ma reclamo la libertà civile con altre forme di libertà politica i governi non hanno più di ieri il diritto di arrogarsi un potere illegittimo ma i governi che derivano da una fonte legittima hanno meno di ieri il diritto di esercitare sugli individui una supremazia arbitraria possediamo ancora oggi i diritti che sempre avremmo gli eterni diritti di approvare le leggi di deliberare sui nostri interessi di essere parte integrante del corpo sociale di cui siamo membri ma i governi hanno nuovi doveri i progressi della civiltà i mutamenti operati dai secoli comandano all'autorità maggior rispetto per le abitudini per gli affetti per l'indipendenza degli individui essa deve portare su tutte queste cose una mano più prudente e leggera questo riservo dell'autorità è nei suoi stretti doveri ed è parimente ben inteso nei suoi interessi giacché se la libertà che conviene ai moderni è differente da quella che conveniva agli antichi il dispotismo che era possibile presso gli antichi non è più possibile presso i moderni dal fatto che siamo spesso distratti dalla libertà politica più di quanto potevano esserlo loro e che nella nostra condizione ordinaria possiamo essere meno appassionati per essa può derivare che talvolta trascuriamo troppo e sempre a torto le garanzie che essa ci assicura ma al tempo stesso poiché teniamo assai più degli antichi alla libertà individuale noi la difenderemo se è attaccata con maggiore abilità e tenacia e per difenderla abbiamo mezzi che gli antichi non avevano il commercio rende l'azione dell'arbitrio sulla nostra esistenza più vessatoria che in altri tempi perché le nostre speculazioni sono più svariate sicché l'arbitrio deve moltiplicarsi per colpirle ma il commercio rende altresì l'azione dell'arbitrio più facile a eludersi perché muta la natura della proprietà rendendola quasi inafferrabile il commercio conferisce alla proprietà una qualità nuova la circolazione senza circolazione la proprietà non è che un usufrutto l'autorità può sempre influire sull'usufrutto perché può togliere il godimento ma la circolazione pone un ostacolo invisibile e invincibile a questa azione del potere sociale gli effetti del commercio si estendono ancora più lontano non soltanto esso affranca gli individui ma creando il credito rende l'autorità dipendente il denaro dice uno scrittore francese è l'arma più pericolosa del dispotismo ma è al tempo stesso il suo più potente freno il credito è sottoposto all'opinione la forza è inutile il denaro si nasconde o fugge tutte le operazioni dello stato sono sospese il credito non aveva la stessa influenza presso gli antichi i loro governi erano più forti dei privati i privati sono più forti dei poteri politici della nostra epoca la ricchezza è una potenza più disponibile a ogni istante più applicabile a ogni interesse e quindi assai più reale e meglio obbedita si sfugge al potere ingannandolo per ottenere i favori della ricchezza bisogna servirla questa deve vincere come conseguenza delle medesime cause l'esistenza individuale è meno inglobata nell'esistenza politica gli individui trasferiscono lontano i loro tesori portano seco tutti i godimenti della vita privata il commercio ha ravvicinato le nazioni e ha dato loro costumi e abitudini pressoché uguali i capi possono essere nemici i popoli sono compatrioti il potere dunque si rassegni ci occorre la libertà e l'avremo ma poiché la libertà che ci occorre è diversa da quella degli antichi occorre ad essa un'organizzazione diversa da quella degli antichi occorre ad essa un'organizzazione diversa da quella conveniente alla libertà antica in questa quanto più uno dedicava tempo e forza all'esercizio dei suoi diritti politici tanto più si credeva libero nel tipo di libertà che si addice a noi quanto più l'esercizio dei nostri diritti politici ci lascerà tempo per i nostri interessi privati tanto più la libertà ci sarà preziosa di qui signori scaturisce la necessità del sistema rappresentativo il sistema rappresentativo non è altro che un'organizzazione mediante la quale una nazione scarica su alcuni individui ciò che non può o non vuol fare da sé i poveri fanno da sé i loro affari i ricchi assumono degli intendenti è la storia è la storia delle nazioni antiche e delle nazioni moderne il sistema rappresentativo è una procura data a un certo numero di uomini dalla massa del popolo che vuole che i suoi interessi siano difesi e che però non ha il tempo di difenderli sempre da sé ma a meno di essere insensati i ricchi che hanno degli intendenti esaminano con attenzione e severità se gli intendenti fanno il loro dovere e sono negligenti o corruttibili o incapaci e per giudicare della gestione di questi mandatari i mandanti che sono prudenti si tengono al corrente degli affari di cui affidano loro l'amministrazione parimenti i popoli che al fine di godere della libertà che si addice loro ricorrono al sistema rappresentativo debbono esercitare una sorveglianza attiva e costante sui loro rappresentanti e debbono riservarsi in epoche che non siano separate da intervalli troppo lunghi il diritto di allontanarli se hanno deluso i loro desideri e di revocare i poteri di cui avessero abusato dal fatto che la libertà moderna differisce dalla libertà antica deriva di fatti che essa è altresì minacciata da un pericolo di natura differente il pericolo della libertà antica era che gli uomini attenti soltanto ad assicurarsi la partecipazione al potere sociale non rinunciassero troppo a buon mercato ai diritti e ai godimenti individuali il pericolo della libertà moderna è che assorbiti nel godimento della nostra indipendenza privata e nel perseguimento dei nostri interessi particolari noi possiamo rinunciare troppo facilmente al nostro diritto di partecipare al potere politico i depositari dell'autorità non mancano di esortarci a ciò sono tanto disposti a risparmiarci ogni sorta di pena eccettuata quella di obbedire è di pagare essi ci diranno qual è in fondo lo scopo dei vostri sforzi il motivo dei vostri lavori l'oggetto di tutte le vostre speranze non è la felicità ebbene lasciateci fare e ve la daremo no signori non lasciamo fare per quanto commovente sia un così tenero interessamento preghiamo l'autorità di restare nei suoi confini si limiti a essere giusta noi ci incaricheremo di essere felici potremmo essere felici se i nostri godimenti fossero separati dalle garanzie e dove troveremmo queste garanzie se rinunciassimo alla libertà politica rinunciarvi signori sarebbe una follia simile a quella di chi col pretesto che abita appena al primo piano pretendesse costruire sulla sabbia un edificio senza fondamenta è dunque vero che la felicità quale che possa essere sia il fine unico del genere umano in questo caso la nostra carriera sarebbe assai ristretta e il nostro destino ben poco elevato non c'è nessuna di noi che se volesse discendere a restringere le sue facoltà morali abbassare i suoi desideri abdicare all'attività della gloria alle emozioni generose e profonde potrebbe abbrutirsi ed essere felice no signori chiamo a testimone la parte migliore della nostra natura questa nobile inquietudine che ci perseguita e ci tormenta questa brama di estendere le nostre conoscenze e di sviluppare le nostre facoltà non alla sola felicità ma al perfezionamento ci chiama il nostro destino e la libertà politica è il mezzo più energico e possente di perfezionamento che il cielo ci abbia dato la libertà politica sottoponendo a tutti i cittadini senza eccezione l'esame e lo studio dei loro interessi più sacri allarga il loro spirito nobilita i loro pensieri stabilisce tra loro una sorta di eguaglianza intellettuale che fa la gloria e la potenza di un popolo così vedete come una nazione ingrandisce alla prima istituzione che le rende l'esercizio regolare della libertà politica i nostri concittadini di tutte le classi e di tutte le professioni uscendo dalla sfera dei loro lavori abituali e della loro industria privata si trovano subito a livello delle importanti funzioni che la costituzione affida loro e scelgono con discernimento resistono con energia sconcertano l'astuzia sfidano la minaccia resistono nobilmente alla seduzione il patriottismo più puro profondo e sincero trionfa nelle nostre città e vivifica perfino i nostri casali attraversa i nostri opifici rianima le nostre campagne persuade del sentimento dei nostri diritti e della necessità delle garanzie lo spirito giusto eretto del coltivatore utile e del negoziante industrioso che conoscendo dalla storia i mali che hanno subiti nonché i rimedi che questi mali esigono abbracciano con un solo sguardo la Francia intera e dispensatori della riconoscenza nazionale ricompensano con i loro suffragi dopo 30 anni la fedeltà ai principi nella persona del più illustre difensore della libertà lungi dunque signori da rinunciare ad alcuna delle due specie di libertà delle quali vi ho parlato bisogna come ho dimostrato imparare a combinarle l'una con l'altra le istituzioni come dice il celebre autore della Historie de la République de Moyen-Hash debbono compiere i destini del genere umano tanto meglio raggiungono il loro scopo se innalzano il maggior numero possibile di cittadini alla più alta dignità morale l'opera del legislatore non è affatto completa quando ha soltanto reso tranquillo il popolo anche quando il popolo è contento resta ancora molto da fare occorre che le istituzioni completino l'educazione morale dei cittadini mentre rispettano i loro diritti individuali e tutelano la loro indipendenza esse debbono tuttavia consacrare la loro influenza sulla cosa pubblica chiamarli a concorrere con le loro deliberazioni e con i loro suffragi all'esercizio del potere debbono garantir loro un diritto di controllo e di sorveglianza tramite la manifestazione delle loro opinioni e formandole in tal modo mediante la pratica queste elevate funzioni debbono dar loro al tempo stesso il desiderio e la facoltà di adempierle l'esercizio l'esercizio